Inizio, 2, 1, missione, e ripetere! Ma ci sono poi vari pacchetti di upgrade. Il gioco fa il verso a quanto già visto su Escape from Tarkov, che io vi portai nel 2016 in una ultra alfa. Questo invece è un gioco che punta a quel pubblico che principalmente predilige il PvE, quindi senza quella tensione di perdere tutto. Si perde tutto anche qui, ma in modo molto più gentile. Il gioco si divide in due modalità, appunto la warfare, che è quella col PvP e PvE, mixato insieme, perché voi pensate a tutto come una mappa enorme dove il centro è il punto in condivisione, in conflitto tra tutti, poi tre fazioni con i loro villaggi vicini da lutare e su cui fare le quest. E poi pian piano ci si avvicinerà al centro e si incontreranno sempre più giocatori di fazioni opposte. Ma noi giochiamo la Joint Operation. La Joint Operation è qui. Vi faccio vedere. Il gioco ha ancora diversi problemi, perché è appena uscito ovviamente. Soprattutto le prime ore di gioco saranno soggette di freeze. Nel senso che il gioco dovrà caricare tutti gli shader, a quanto detto, quindi non chiudete il gioco. Attendete che il gioco finisca il freeze, perché poi non succederà più, succederà sempre meno. Comunque il gioco parte in questa fase, dove siamo nella nostra base. Abbiamo la vista, diciamo, del campo dove ci troviamo e accedendo con tab vediamo la mappa. Noi siamo qua in questa fazione qui. Le prime missioni sono qui e pian piano ci avvicineranno questa zona qua. Ci sono altre zone di interesse, soprattutto laterali, però giocando in PvE non avremo modo di ucciderci con gli altri. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare al... Qua arriva l'elicottero, prenderci ogni tanto in questo campo e dobbiamo andare a prenotare un elicottero per noi. È multiplayer, quindi potete giocare anche con amici. Vedete, questi probabilmente stanno già ordinando. Io do l'ordine, voglio andare qui. Ok, mi hanno già accettato l'elicottero. Io una volta ho preso l'elicottero con un tizio che non era con me e mi ha portato in un punto che non è una zona, diciamo, iniziale, perché è questa. È una sorta di bunker. Adesso, vedete, in verde sta arrivando il mio elicottero. Arriverà solo per me, per se qualcuno vuole venire a suo rischio e pericolo, però... In pratica adesso qua mi viene mostrato che sta andando via. È l'elicottero di un altro tizio. A volte vi toccherà aspettare perché tutti gli elicotteri sono in viaggio, quindi bisogna aspettare il proprio turno. Adesso è il mio turno. Io adesso ho preso un po' di roba anche dai loot precedenti. Andiamo. Premo F. Se qualcuno vuole favorire, io vado al villaggio. Al villaggio ho delle quest, delle task. Una prima ricognizione al gas station. All'inizio, se voi notate sulla mappa, non ci sono indicati i punti di interesse. Perché li dovete scoprire. Ora, io vado a questo... La mappa, calcolate che è tutta esplorabile, quindi ve la potete fare volendo anche a piedi. Fate quello che dovete fare. Se sopravvivete, tornate qua e in pratica ordinate il trasporto verso la base. Quello che io voglio fare adesso è una breve avventura in questo checkpoint, che è un punto di dogana, diciamo, dove ci sono gli NPC. Voglio andare lì, magari morirò subito, però voglio lootare, vedete, in quel posto là, voglio lootare un po' di materiale. Perché io la prima ranche ho fatto, sono morto malamente, ho perso tutto. Voi potete tornare sul punto dove siete morti. Gli unici che possono avervi lootato sono i vostri compagni. Non so ancora moltissimo del gioco, infatti tenendo premuto... Vabbè, con l'R ricarichiamo. Col tasto V guardiamo lo status delle munizioni. Sono un caricatore da 30, quindi quello ha 29 colpi. E ora inizieremo a muovere. Ci vediamo che c'è già qualcuno là in fondo. Non ho... no. Non ho grandi ottiche al momento, o almeno ho scelto di non equipaggiarle. Là si vede già qualcuno. Possiamo muoverci silenziosamente, facendo molta attenzione. La cosa bella di questo gioco è che le armi sono riprodotte bene. Sembrano un po' giocattolose usandole, ma anche qui migliorerà sicuramente nel tempo. Ma la cosa bella è che per scoraggiare i camper, quindi quelli che restano fermi sempre nello stesso punto aspettando gente, si creerà una spiacevole situazione di presenza di mosche e zanzare. Quindi il brusio, il zzzz. E quando ne sentirete parecchio, vuol dire che lì intorno c'è qualcuno fermo da tempo. Comunque io mi muovo silenziosamente. Questo gioco vuole andare a prendere quelle meccaniche che hanno introdotto con quel gioco illegale che è Single Player Escape from Tarkov. Ok, qua ne ho ucciso uno, dovrebbero essercene un paio. Queste sono piccole missioni che vi, ed è lo scopo anche di questo video, farvi vedere se il gioco può valerne la pena per voi. Perché mi consente, qualora io fossi messo veramente male, a livello di equipa, di venire qui e farmi questo piccolo viaggetto e quindi andare a rimpinguare le mie risorse. Infatti io ho fatto 200 dollari, c'è solo una valuta che sono i dollari. Dovrebbe essercene un altro da qualche parte. Comunque li trovate un po' disseminati un po' ovunque. Però io qui non trovo nessuno, guardiamo che cos'ha. Un Kalashnikov, che io potrei portare via, ma non si può portare, serve un porta-arma. Vediamo cosa ha qua dentro. E nello zaino. Lo zaino è più piccolo di quello. L'ho luttato anche quello, tra l'altro. Le cuffie mi interessano. Anche l'armatura non ci sta. Non saprei dire se l'armatura è migliore della mia, ma... Però intanto inizio a portarmi via qualcosa. Del caffè. E cavoli, questo Kalashnikov qui non è male. Devo capire come riuscire a portarlo via, ma non ho un sostegno per l'arma. Infatti poi potete andare a fare l'inspect e togliergli le varie componenti e poterle vendere. Quindi io smonto un po' di cose dall'arma, con l'idea di monetizzare. Posso detatch. Ok, me lo monta lì. Perché poi c'è quello delle armi, insomma, che vedi acquista. Direi che detatch. Vediamo, sì, me lo monta lì. E non posso più detatch. Anche questo. Mi sono già riempito, quindi io... Ups, cazzo. Ho partito un colpo. Io tecnicamente potrei già tornare a casa. Questo è un video, non è una live, quindi insomma non ho tutto il tempo del mondo. Deve essere un video anche veloce e conciso. E quindi qua dentro poi trovate degli oggetti magari da lutare. Ci sono le classiche chiavi che aprono le porte e così via. E voglio fare un video snello, in modo che sia visibile in breve tempo, senza troppi problemi. Io potrei già ritenermi soddisfatto. Questa è la run della paura. Ho fatto... Mi ricarica lo stesso caricatore. Credo che non sia neanche... Ah sì, sono uguali. Probabilmente all'interno hanno dei proiettili diversi. E sono uguali. Prodotti da altri. Ah, ok, questo è un po' più veloce da ricaricare. Va bene. Però sono due produttori diversi di caricatori. Qua non c'è più nessuno. Perché, vabbè, gli NPC ripoppano dopo un po'. Ma qua credo sia già passato qualcuno. Comunque, quello che io dovrei fare in questo momento, è andare avanti lungo la via e andare alla location che mi ha dato la quest. Che praticamente dovrebbe essere... Vai a trovare la gas station, il convenience store e il demolished building. Ovviamente online trovate le guide di dove si trova, ma io so che la gas station tecnicamente dovrebbe essere questa. La gas station questa, l'edificio demolito da qualche parte in città. E sono segnati con 170-121, 171-118. Quindi vedete i quadrati, li incrociate e trovate la location dove dovrebbe essere. Comunque, questo è il primo. Molto bello il fatto che comunque ho sparato giusto due colpi e l'ho ucciso subito. Non era eccessivamente armato. Ora, queste sono proprio le ultra basi. Io sono un care beer, come si definisce offensivamente un giocatore che ha paura della sua ombra e non vuole morire. Intanto vedete che stanno arrivando anche altre elicotteri, probabilmente di gente che... No, sta andando via, sta andando da qualche altra parte di là. Qua c'è un giocatore, shift 76. Io dico che voglio tornare al campo. Ok, il messaggio che potete ricevere potrebbe essere request denied. Cioè abbiamo già tutti gli elicotteri in giro, come vi dicevo prima, e quindi aspetti. Uno dei problemi che dovranno risolvere gli sviluppatori è nella parte PvP, quindi dove chiunque può raggiungere questa zona, anche qualcuno che non è della nostra fazione, potrebbe mettersi qui in mezzo agli alberi e ucciderci mentre noi li cerchiamo di estrarre. E quello potrebbe essere un problema. Però la cosa confortante è che gli sviluppatori hanno detto che ci stanno lavorando. Hanno, diciamo, preso un po' la palla al balzo questi sviluppatori, perché Escape from Tarkov non sta passando uno dei migliori periodi. E devo dire che la resa delle armi credo sia pazzesca in quel gioco, mai visto una roba del genere. Dà soddisfazione anche avere una pistola, per quanto non è male neanche questa. La glocca è la mia preferita. Però il fatto di ritrovarsi contro dei vieterani espertissimi che vi uccidono con un colpo e che voi non buttate giù neanche con un caricatore intero non è proprio il massimo della vita. Quindi perché non buttarsi in questa ambientazione stile Vietnam con i vostri amici in totale possibilità di PvE. Tra l'altro la PvE è intercambiabile col PvP, cioè noi otteniamo delle cose qui e le possiamo poi andare a utilizzare loggando il server PvP. Ora salgo sul mio elicottero e me ne torno a casa. Prima non si poteva nemmeno sparare dall'elicottero, adesso si può fare, qualora ci fosse qualcuno, ma non ha senso al momento. Potrei mettermi a sparare qui, ma... Che poi il nemico resterebbe morto lì e tornerei a casa e poi dovrei riprenotare un altro elicottero per tornare indietro. Anche vedete che mi sta... Allora, il mondo è privo di caricamenti. Allora, i primi caricamenti sono laggosissimi. È la prima volta che sono venuto qua e sono rimasto in schermata ferma a 15 secondi. Non è crashato. Ora, come avete visto, il gioco regge splendidamente. Quindi, come hanno detto gli sviluppatori, bisogna dare pazienza al gioco che al momento non è ancora ottimizzatissimo. Lo trovo già divertente perché comunque mi continuo a accumulare qualche soldo, mi compro qualcosina e poi deciderò di andare a fare quelle quest. Non mi correre dietro nessuno, ci saranno i wipe, come in ogni gioco di questo tipo che si rispetti, perché comunque il gioco lo sviluppano, lo portano avanti. Resterà in early access un bel po', credo. Però lo trovo già assolutamente interessante, molto più user-friendly di quell'altro gioco. Ora, vedete, siamo atterrati. Ora, da qui, una volta scesi dall'elicottero, avremo accesso alla stash. La stash... Vedete, lui scende già in automatico. Accedendo qua, abbiamo i vendor, dove noi possiamo andare a vendere le cose che abbiamo lootato. Ma facciamo prima così. Io questa è la stash che ho. Vado a depositare qua in fondo, così me le tengo ben separate. Tutte le parti del Kalashnikov che abbiamo trovato prima. Sì, poi non so neanche se sono tutte qua. Anche il caffè potrebbe essere qualcosa richiesto da una quest, non lo so. Prendiamo anche queste cuffie, vado a vendere tutto. Vedete che... Velocissimo. Vendola. Poi vabbè, hanno le loro tasche che possiamo accettare, ma... Vediamo. Questo compra le cuffie a 15 dollari. Gliele vendo. Poi, altano... Mi compra questi. Allora, 36... 9... 12... 3... 6... E abbiamo ottenuto 79 dollari. Sì, una novantina, più o meno. Calcolate che sono partito a 10.000. Adesso sono... A quanto sono? Sì. 10.300 dollari. Non facendo assolutamente nulla, perché l'unica cosa che io ho fatto finora è andare due volte qui e uccidere i due tizi qua. Ovviamente dovrò avanzare, andare fino qui e pian piano andare avanti. Non mi fido ancora tantissimo a farlo da solo. Magari se ci sarà qualcuno che verrà e comprerà il Giacomo mi darà una mano o magari prenderò un po' di coraggio e andrò. L'ambientazione è bellissima. La grafica è altrettanto bella. Per quanto in alto a destra vedete i frame, gli FPS, sono sui 60. In realtà ho impostato come limite massimo il 165. Non li tiene minimamente, ma difficilmente si scende sotto i 50. È pesantino come gioco, ma calcolate che ora sono io a dettaglio ultra. Quindi, ecco, questo era Greyzone. Io desidero anche ringraziare Joker, che me lo ha regalato, così a sorpresa, prendendolo da Instant Gaming. E quindi, insomma, lo ringrazio. Bellissimo regalo. Ci giocherò sicuramente andando avanti, insomma. E lo proverò. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Ciao, ciao.